Michele, Michele, Michele. Ma è diventato un vizio. Ho deciso che ogni volta io comincerò la nostra chiacchierata con un diverso Michele, Michele, Michele. Una volta più tranquillo, una volta più agitato, una volta più aristocratico, un'altra volta più da scaricatore di porto, insomma. Ecco, quello lì mi ci vuole. No, ai tempi miei c'era Renato, 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 la serenata che mi hai cantato. Fermati, fermati. Fermati che ci buttano giù. Per il porto è Renato, Renato, Renato. Beh dai, allora, in questi giorni di clausura almeno, diciamo così, che possiamo vederci perché ancora la trasmissione tramite Zoom non è stata verificata, quindi almeno possiamo vederci. Ti dico che in questi giorni l'unica persona che ho visto effettivamente è stata Arianna, ma per il resto non ho visto un cazzo di nessuno. Quindi sei un essere umano nuovo da vedere in questi giorni. Beh, io e te ci siamo visti un po', se non altro per video. È vero, è vero, è vero. Insomma, insomma, insomma. Cosa mi racconti? Io vengo da un tentativo solitario nei campi di biciclettare un po', perché insomma mi bisogna tenere. Cosa mi racconti? Eh, giusto. Allora, ascolta, io oggi ragionavo su un fatto, cioè ragionavo un po' sulle possibili conseguenze di questo periodo. E mi sono venuti in mente due scenari che vorrei sottoporti e magari vediamo se sono credibili e se invece no, quali potrebbero essere eventualmente qualche scenario futuro. Allora, da un lato c'è lo scenario pessimista. Lo scenario pessimista è quello che sta accadendo, diciamo così, va ad amminare alla base la fiducia internazionalista e quindi anche il progetto europeo. Cioè, io vedo abbastanza concreta la possibilità che, protraendosi ancora per qualche settimana questa situazione, comunque con un lungo strascico, i populismi nazionalisti abbiano la meglio dal punto di vista dell'attrattiva per quello che è comunque il popolo e che quindi venga accantonato seriamente il progetto europeo che magari qualcuno possa dire, sai cosa, ne riparliamo fra 80 anni, 90 anni, 100 anni. Dall'altro lato invece c'è un altro scenario, che è lo scenario ottimista, non privo di problemi, secondo cui, a causa di quello che sta accadendo, ci sia una sorta di risveglio internazionalista che la gente si rende conto, che i governi si rendono conto che questi problemi, i problemi del ventunesimo secolo, non si affrontano una nazione alla volta, ma si affrontano globalmente e quindi ci sia un rafforzamento dello scenario globale in cui, ragionando anche in fantapolitica, l'OMS potrebbe diventare il primo embrione di governance globale. E questo lo dico anche perché ho visto una bellissima conferenza su TED, che allego sotto in descrizione, in cui si dice una cosa molto chiara, si dice, guardate che noi siamo stati fortunati in realtà con questo tipo di pandemia, perché nei problemi immaginate cosa sarebbe successo se il focolaio iniziale fosse stato nella Repubblica del Congo, in Niger, in paesi dove gli strumenti diagnostici sono molto, molto meno avanzati rispetto alla Cina. Insomma, ho messo insieme un po' di roba perché mi piacerebbe capire, di fronte al coronavirus, si va verso un mondo più chiuso, più nazionalista, meno aperto? Oppure c'è la possibilità che questo sia un problema che apre ulteriormente alla cooperazione globale, secondo te? Vast programma, Monsieur Dufierre. Mi rendo conto che è una domanda molto difficile. Magari mettiamo qualche... Guarda, la risposta, io oggi, ieri sera, ho scritto per il mio amico Francesco Cancellato, che è il vice direttore di Fanpage, ogni tanto sentiamo e scambiamo, un breve articolo per il loro giornale. Lui mi ha detto che dire della crisi, della situazione finanziaria nei mercati. E la risposta che ho dato alla Vale, secondo me, è anche in risposta alla domanda che fai tu. Lo decideremo noi. Perché quello che in realtà... Io non mi stancherò mai di ripetere. Poi mi possono dire che sono un celtrone, che minimizzo, che sono uno stronzo senza cuore, che dice che è solo un'influenza, eccetera. Però quello che in realtà va detto di questa crisi comunale è che l'entità reale, materiale, del problema che abbiamo avuto è grande. Ma che noi, con le nostre paure, con le speculazioni, con la malafede, con l'incapacità e anche con l'interesse di chi governa e non solo di chi governa, abbiamo moltiplicato la dimensione del problema di almeno dieci, forse cento volte. Questo vale per la dimensione sanitaria, vale per la dimensione economica e ovviamente vale per la dimensione politica, come tu hai appena sottolineato. Questa è la risposta. Quindi questa è un'opportunità, come tu hai suggerito, però è anche ovviamente nel momento in cui si scatenano le paure, gli odi, i terrori, le fobie, i sospetti, le angosce, è una perfetta tsunami che può travolgere tutto. E poi ci sono anche gli errori. Io ieri ho stigmatizzato quello di Madame Lagarde dicendo io non ho mai pensato anche bene di Madame Lagarde, è una politicante. Ne abbiamo anche parlato io e te, ti ricordi? Ne abbiamo parlato a suo tempo. La politicante questa volta non ha saputo esprimersi. Il paradossale è che la politicante ha detto la verità nel modo sbagliato nel momento più sbagliato che potesse scegliere. E ovviamente oggi abbiamo... Però, capisci? Adesso, ok, abbiamo una politicante che ha fatto un grave errore. Sì. Io sono dell'opinione, per esempio, mi auguro che magari succeda, dovrebbe essere rimossa. Darebbe fiducia ai mercati rimuoverla e mettere una persona più competente al suo posto. È infattibile? Oh, se vogliono sì. Non la si può rimuovere brute force, ma le si può fare moral suasion all'interno del direttorato, come diavolo si chiama, non mi ricordo più, il gruppo che in realtà dirige per davvero l'ICB, qui lei è presidente, tale che la signora capisca che la cosa è grave abbastanza per il bene dell'Europa e dell'Europa è importante, lei è benestante, ha servito, ha avuto, non c'è nessun programma, time for retirement and book reading or book writing. Beh, anche alla luce delle ultime dichiarazioni della Wunderleyen, la quale ha detto l'esatto opposto rispetto alla Lagarde qualche ora fa. In effetti sì. In fermento. Beh sì, e anche in cercando di aggiustare, perché? Perché capisci, volevo usare quello come esempio per risposta alla tua questione, visto che hai centrato anche sull'Europa. Allora, pensa a questa roba qua. Ok, la Lagarde ha fatto quell'errore lì, d'accordo? Allora, a quell'errore lì possiamo reagire come? Possiamo reagire speculandoci, accentuando il conflitto, dicendo, visto che è quello che in casa una parte politica sta facendo. Certo. Possiamo agire con grandi discorsi, con Mattarella che si indigna, vabbè, forse serve, ma non mi è sembrata una grande idea neanche quella. O possiamo agire proattivamente dicendo, Madame, adesso tu vai a casa cooperativamente. Mettiamo una persona in seria, che non fa quell'errore lì, se farà anche un altro errore cambieremo anche quello, e si va avanti con l'attesamento responsabile e l'utilizzo degli strumenti che ci sono per cercare di calmare il mercato. Quindi, sta a noi la scelta. È chiaro che se scegliamo la scelta delle accuse reciproche, del botte risposta, della lei è francese, e quindi è contro di noi, voi siete italiani, ti agnucolate sempre, bla bla bla, avremo un'escalation. Dipende da noi. Cioè, capisci, il futuro ce lo costruiamo noi. L'entità del problema materiale che abbiamo davanti è grande, ma non è enorme. Certo. Questa è l'unica risposta che riesco a dirti. Dopodiché, tutti gli scenari sono possibili. Sì, sì, sì. No, io, sai, in questi giorni vedo, la cosa che mi preoccupa è, appunto, vedere che la reazione di mercati, di politica, di media, è stata molto più forte rispetto anche al crollo finanziario 2008, che comunque è stata un'eccatombe dal punto di vista della comunicazione e della reazione. Per oggi vedo che si sta veramente perdendo il controllo sotto tantissimi punti di vista. E lo vedo, ad esempio, in questi giorni io leggo che possono anche essere lette in maniera positiva e attenzione, però io le guardo sempre un po' con sospetto. Cioè, reagire dicendo, ok, adesso ci mettiamo tutti fuori dalla finestra a cantare l'Igno d'Italia, mettiamo fuori le bandiere italiane, che certo, può essere una cosa che rinfocola gli animi, però dall'altra parte c'ha sicuramente una componente reattiva che è una sorta di orgoglio nazionale contro quelli che, appunto, la Lagarde, l'Europa, invece ci bacchettano e ci dicono che. Adesso è venuto fuori anche la notizia, perché ovviamente Repubblica, che è un giornale di sinistra, che quindi dovrebbe essere aperto a internazionalismo, invece è da sempre voce a queste cose qua, scrive di tutte le bandiere fuori, di tutti quelli che cantano l'inno di Mameli fuori, e mette anche la notizia, proprio all'inizio, nel blog, proprio in primissima visione, di questo inglese che in una trasmissione, non so neanche che cazzo sia questo, non penso neanche sia così importante, in una trasmissione televisiva ha detto ecco, gli italiani hanno adesso la scusa buona per non fare nulla. Mi ha girato che è un presentatore. Sì, ma capisci? Dipende da quello che, per esempio, noi decidiamo. Di gente che dice e fa stronzate. È pieno ogni giorno che abbiamo vissuto. Ovvio. Il problema dei media è che devi scegliere che notizie dare. Questo è valse lungo tutta la storia di questo maledetto coronavirus. Valse 12 anni fa nel pieno della crisi finanziaria, arrivano ogni giorno. Valse sul dibattito, sull'euro, eccetera. Sta alla responsabilità del mondo collettivo che noi ci costruiamo attraverso il sistema mediatico, il nostro piccolissimo di te e me, ma te e me ci ascoltano i 100.000 in tutto, e se va bene, o 50.000. Se ci ascoltassero i 50.000 starebbe a teme decidere che cosa oggi parliamo. Potremmo fare questa stessa conversazione, tu e io, dicendoci, visto mio figlio, il nastro, chi si odiano, no, accentuando. E invece stiamo dicendo, guardate, certo, la Lagarda ha pestato una merda, anzi due, ok? E adesso sta a noi decidere. Certo una merda per terra, la tiriamo, la prendiamo in mano anche noi e cominciamo a tirarcela addosso per fare come era la Lagarda e decidiamo. Ok, allora, prova a farci. Un livello di emotività folle. Penso allo swing della borsa italiana ieri e oggi. Questa cosa ha fatto oggi? Meno 16 più 8, più 7. Sì, sì, incredibile. Oh, più 17 a un certo punto. Più 17. Eh no, no, mi ero fermato a un certo punto. 11, ma ha cambiato. Perché adesso ho guardato un attimo dopo aver detto più 17, avevo il numero che avevo letto prima. Puro bipolarismo finanziario. Ma puro stato emozionale, nervi, tesi, c'è casino di gente che spera ovviamente. Nella volatilità, chi è rapido e veloce fa tanti soldi. Ah certo. E quindi situazioni come queste sono anche situazioni in cui tutti coloro che fanno trading molto rapido e giocano sulla volatilità sono lì pronti. Certo che, sai, a quelli devi fornire il materiale primo, cioè le emozioni. Ah sì. Se tu fornisci emozioni, come è successo ieri, questa ha detto la cazzata, borobom. Oggi arriva la van der Leyen, ci sono le reazioni, barabam. Barabam. Sì, sì. Sta, e quello è il punto, ce lo facciamo noi il mondo, viviamo in un mondo di self-fulfilling prophecies. Ok, ok. Allora, proviamo a spostare un attimo il focus. Aspettative autorealizzanti. Sì, sì, sì. Questo è interessante, proviamo a spostare allora il focus, perché tu dici giustamente è responsabilità di tutti noi, però cosa vuol dire responsabilità di tutti noi? Perché, ripeto, quando tu pensi a La Repubblica, il giornale, al Tg1, oppure appunto alle dichiarazioni della BCE, dicendo, sai, la persona che ci ascolta può sentirsi molto impotente nella propria capacità di agire rispetto a queste cose. Quindi, se dovessimo dare qualche input a chi ci ascolta, perché, giustamente, dici, ci ascolta 50-60 mila persone che non sono le 50 milioni. Però, se dovessimo dare dei consigli a quei pochi che ci ascoltano, cosa bisognerebbe fare, secondo te, per influenzare questo tipo, questo stato di cose? Cioè, cosa significa per una persona che ci ascolta essere responsabile e decidere di questa situazione? Sai che io non sono, a me non piace tanto dare, cioè, riesco a dare consigli alle persone che mi sono vicine e che conosco bene, non faccio molta fatica a dare consigli pubblici, sarebbe. Non lo so, io il consiglio lo do con l'esempio, io, anche se mi hanno detto di tutto in questa fase come in altre, continuo a ripetere indefessamente quello che penso è la mia analisi del problema, cerco di usare la razionalità e cerco di distribuirla, dove usare la razionalità non vuol dire essere freddo o cilico, ma vuol dire utilizzare tutti gli strumenti che ho di comprensione del mondo per soddisfare i miei sentimenti. E fare tre bei respiri prima di dire qualsiasi cosa, peraltro. E quindi, certo, siamo pochi, però sta a noi dire, ragazzi, non è vero che vi ragiono, sta a avere anche la capacità di mettere in discussione lo stato di cose esistente, di mettere in discussione, per esempio, c'è questo atteggiamento finto patriottico molto italiano, è stupido. Quello che dice, siccome adesso finalmente hanno deciso dei provvedimenti che sono ambiguiti, essi vanno assolutamente rispettati e non messi in discussione, è stupido. È suicida, è promo. Ok? Vanno rispettati, certo, non voglio stare lì in fangere la legge, ma a parte che hanno dei margini enormi di interpreti fatili, oggi il Viminale ha detto, sì, ok, potete fare le passeggiate, ma pensa un po', ok? Ma pensa un po'. Se uno passeggia da Milano a Reggio Calabria, è una passeggia? Se io passeggio esattamente, ma pensa un po', vabbè, non importa, io ho appena passeggiato, infatti, perché la mia interpretazione del senso del provvedimento, ho passeggiato anche ieri, era che io posso passeggiare, senza mettere niente in faccia alla gente, ma posso passeggiare, ma non è quello. Adesso comincia il scatenamento italiano, appena visto, alle parrocchie riapprono. Perché le parrocchie riapprono? Mamma mia, è vero, incredibile. L'unica roba razionale di questo provvedimento, per quanto mi riguarda, per la parte che ha a che fare, diciamo, con la vita di tutti, poi, c'ho delle cose da dire sulla gestione della sanità, ma lasciamo stare, è una questione delicata, sta diventando sempre più delicata, e platealmente il bubone, finché non sono sicuro, non parlo, ok? Allora, perché i parchi chiuse e le parrocchie aperte? Capisci? I parchi chiuse e le parrocchie aperte perché? I parchi sono molto meno pericolosi dalle parrocchie, perché in chiesa si sta molto più vicini che è il parco, al parco è il parco per cercare di stare a 5 metri di distanza da un lato e non alitarsi addosso. In chiesa, o il prete ti dispone tatticamente, no? Fa 18 messe invece di fare le solite due, per cui in chiesa c'è un nono del normale, oppure si sta vicini. Certo. Ecco, di fronte a questo va usata razionalità di dire no, no, non facciamo sta roba qua, non siamo super rigidi per cui abbiamo la gente terrorizzata da un lato che pensa che non può neanche portare fuori i cani a pisciare e poi siccome la lobby dei preti spinge a loro caproni. Certo. E aggiungo una cosa. Qui vedo un livello, non lo so, non è irrazionalità, è... Ah no, è proprio... Sì, è demenza, è demenza, è demenza, sono d'accordo. No, aggiungo una cosa, oggi c'è il provvedimento secondo cui i militari in giro per le città hanno di fatto la... lo stesso incarico delle... Tremenda, quella terribile, terribile, terribile. Eh, capito, anche lì, anche lì, vedete, ecco, questo è, io mi accodo al consiglio di Michele, non si deve disobbedire una legge, c'è nel senso in questi casi, ripeto, non si disobbedisce, però dall'altro lato pubblicamente bisogna sapere argomentare il proprio dissenso, è questo che potrebbe fare la differenza, cioè il fatto oggigiorno abbiamo uno strumento che è quello del web, che oltre a permetterci di tenerci in contatto in questo modo e di diffondere comunque per quanto possibile dei contenuti edificanti e utili, ci permette anche di esprimere delle opinioni. Ecco, oggi bisogna usare questo mezzo non soltanto per farci la guerra e basta, ma anche per saper diffondere ragioni, critiche di fronte delle decisioni che per quanto poi nel momento dell'incontro con quelle leggi vanno rispettate, però ciò non mi esenta dal dire ok, però diciamolo che dei militari in centro città che hanno lo stesso incarico di pubblici ufficiali è una puttanata, è una puttanata per mille motivi fra quali i militari non hanno quell'addestramento, non sanno cosa fare. Io guarda, ti racconto un aneddoto, ma io quando stavo a Padova, quando vivevo a Padova da universitario, io a Piazza dei Signori, al Parato della Valle, ho visto una scena incredibile, era il periodo in cui proprio all'inizio venivano messi dei militari in centro città, si trattavano nel 2007 o nel 2008 era il primo momento in cui vedevi dei militari. Io ho visto dei militari sguainare il loro M16, che cazzo è il loro il fucile che utilizzano, davanti a due ragazzi che fumavano una canna sotto un albero, semplicemente perché alla loro domanda cosa state fumando, loro gli hanno risposto beh ma saranno pure cazzi nostri, ok? Hanno tirato fuori il mitra, io sono rimasto e lì, lì semplicemente dovuto al fatto che tu, il militare, non puoi dargli il ruolo di pubblico ufficiale perché non è addestrato per quello, ma poi ci sono altri mille motivi che ovviamente non stiamo qua a sciorinare. Ecco, credo che oggi ci sia necessità di fare questo perché le istituzioni da sole non sanno che pesci pigliare, le istituzioni hanno bisogno della pubblica opinione ben ragionata e ben argomentata, quindi usate questi mezzi per diffondere anche pensiero critico, è fondamentale. Molto importante quello che hai detto e guarda, ti ringrazio per aver sollevato questa cosa del praticamente stato d'assedio, cioè del che abbiamo in una forma di pseudopatriottismo consegnato a un personaggio come Conte poteri straordinari con questa scemenza di mandare i militari poveri che sono persone di un certo tipo con certi ruoli armati in una certa maniera e tra l'altro con certe mentalità con certi sistemi a fare polizia giudiziale è pazzesco è un paese che riapre le parrocchie perde tempo a dibattere a fare i comunicati al biminale sul fatto che si potete fare le passeggiate e spende un sacco di risorse peraltro con il discorso militare perché poi non dobbiamo mai dimenticare che portare dei militari in centro città è un dispendio di risorse che invece potrebbe essere comunque diciamo così allineato in modo diverso quindi c'è tutto voglio dire se davvero pensiamo che questo salto di consapevolezza di cooperazione sociale di sapersi comportare si possa ottenere con la minaccia del militare allora non abbiamo capito niente non conosciamo la storia non conosciamo allora vogliamo far finta di essere una specie di nordcorea ti sei accorto di questa cosa qua è interessante è interessante perché se vogliamo rispondere a questo problema rispondiamo a questo problema con educazione consapevolezza civica se pensiamo di farla quindi militare con il mitra spianato allora ragazzi ci stiamo dicendo ci lamentiamo tanto della polarizzazione ma io ho visto una iperreazione istituzionale polarizzata cioè nel primo momento si presupponeva che la gente fosse completamente razionale e quindi che si potesse avere dei comportamenti razionali pur emanando dei decreti ancora non in vigore senza aver già saggiato il terreno senza per esempio aver già disposto le forze dell'ordine per evitare che succedessero le cose che succedevano perché prima tutti hanno detto vabbè cosa vuoi la gente è razionale ma la razionalità cosa poi appena la gente si dimostra per quello che è ne abbiamo discusso anche nella live di martedì sera allora c'è l'iperreazione contraria ah la gente è una bestia irrazionale grazie al cazzo ti sei svegliato adesso e quindi neanche più la polizia no i militari proprio non c'è stata neanche una via di mezzo minimale un macello incredibile no no tornando alla questione tua capisci c'è sia noi in Italia ma devo dire che questo vale anche per il mondo vedo pensa alla reazione di Trump no è certo per giorni cioè i paesi dove abbiamo dato il potere forse questo rifetto a personaggi da un lato incapaci dall'altro morali populisti eccetera eccetera sono quelli in cui c'è maggiorismo cioè Trump un giorno e per settimane va avanti dicendo non c'è nessun problema ed è la società civile americana che reagisce perché il privato americano ha reagito si è organizzato su questa cosa molto prima del governo federale va in giro dicendo cazzate le più varie poi all'improvviso blocca i voli per con Schengen per fare la sceneggiata dall'oggi al domani peraltro cioè senza nessun tipo di preavviso sì sì incredibile è pura propaganda elettorale pura propaganda ecco ovviamente sai di fronte a cose del genere la risposta alla tua domanda iniziale è tutto è possibile no perché se fai delle cose alla Trump continuamente o della Lagarde e l'Accente o alla Salvini o via andando o alla quella del presentatore britannico che hai menzionato no o anche le sparate di speranza a inizio crisi abbiamo chiuso i voli diretti dalla Cina quindi siamo sicuri ma che cazzo dici finché fai queste sparate qua è il futuro è il disastro poi io devo dire posso dirlo qualcuno io anche in questo chapeau l'unica statista nel mondo libero che continua a essere la grande statista del mondo libero è la signora Merkel la quale sono sicuro che in questo mese e mezzo il due mesi l'amministrazione sanitaria tedesca ha lavorato per prepararsi tutti dicono sono incapaci sono incoscienti qua si fanno finta di niente da quanto evidenza sono lì che lavorano sull'unica e che anche come certo a dire ai suoi cittadini guardate funziona così quindi prepariamoci a gestirla nella consapevolezza che il 70% di noi prima o dopo se lo può prenderà e quindi va gestito come dire va gestito ok va gestito in modo razionale sì sì certo in modo razionale io insomma così la vedo a te l'ultima parola no sì io guarda vi invito invito anche te poi ti mando il link comunque a guardare il TED che ieri è stato io me lo son visto è stato veramente molto illuminante perché appunto in questo discorso si dice c'è la possibilità di trasformare questa cosa letteralmente nel primo embrione di governance globale e guarda casa anche di nuovo visto che abbiamo parlato della fantascienza e dell'horror chi fu il primo autore a parlare del possibile governo globale in conseguenza a un'epidemia Isaac Asimov ovviamente il profeta vedi vedi e in realtà sì no questa cosa è interessante perché qui dietro questo fenomeno c'è un'opportunità cioè c'è l'opportunità di capire ancora meglio che le epidemie sono un altro di quei problemi esattamente come il fabbisogno energetico l'ambientalismo e molti altri che vanno affrontati con cooperazione internazionale se riusciamo a immettere nella testa della gente dell'opinione pubblica questa idea il problema è che non lo stiamo facendo ma bisogna farlo allora forse potremmo trarre da questa crisi la possibilità di guardare al mondo non più come a un nemico che è un'ingerenza nei confronti delle nostre tradizioni dicendo ma com'è letteralmente a qualcuno che sta sulla stessa barca dove siamo noi e che per evitare di affondare bisogna letteralmente collaborare come si deve usando il cervello vediamo vediamo queste sono due possibilità concrete credo che dobbiamo lavorare ecco io concluderei dicendo questo nessuno di chi ci ascolta può aspettarsi che qualcuno arrivi con la risposta bisogna tutti quanti muovere il culo e cercare di far sì che questa questa cosa questa cosa prenda una direzione insomma perlomeno non ci vuole il dibattito aperto franco però esplicito mettendoci la faccia i dati i ragionamenti perché stiamo lavorando anche su un terreno sconosciuto farò degli sbagli o farò degli sbagli tu però solo con il dibattito il dibattito che non c'è ancora è pieno di paure di reticenze di paure di dire di grandi uomini che urlano di signori che occultano e questo prepara la parte negativa prepara la chiusura prepara la chiusura è a rischio che di fronte a questa emergenza si torni dietro di 60 anni 70 anni e 70 anni fa il mondo non era così bello bene bene dai insomma speriamo speriamo nel frattempo mi raccomando restate a casa fatevi le passeggiatine ma restate a casa tanto ci sono un sacco di podcast video di Liberi Oltre di Duferdi Michel Boldran quindi insomma ne avete a Iosa metterò cose nuove anch'io metterò conferenze noiosissime così potete annoiarvi però sì curate il cervello andate a fare due passi con discrezione curate il corpo anche perché anche perché attenzione attenzione c'è una cosa importante per molti questa settimana è stata una grande novità ok per me per esempio a parte gli eventi annullati però non è stata questa grande novità io già lavoro da casa quindi ho questa grande fortuna però per molti è stata una grande novità ricordatevi che questi primi 4-5 giorni sono stati una novità e quindi si è sopportato un po' la depressione la mancanza di cose grazie alla novità la settimana prossima sarà dura quindi agite per il meglio qualche consiglio quando vi svegliate al mattino vestitevi come se doveste andare al lavoro non fate i fottuti trasandati lavatevi che non è mai male e tenete ordine casa fate tutto quello che fareste in un periodo normale però stando a casa a me ti consigli non viene da darli vai ma guarda io te lo dico io li do soprattutto a me stesso perché io di tendenza sarei uno di quelli che ne abbiamo parlato i periodi di imbruttimento ah piccola piccola cosa io li chiamo periodi di imbruttimento non perché non sappia che la parola giusta è abbruttimento grazie al cazzo ma perché è bella è caricaturale imbruttimento ok quindi non state qua ma si dice abbruttimento ma va ok comunque ha messo l'apostrofo non imbruttitevi fate le cose per bene tenete a svegli il cervello e ovviamente diffondete questo video iscrivetevi che non è tutto noia ciò che si imbruttisce ah no ciao è carissimo ciao ciao Mike ciao a tutti e buon weekend ciao 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 ciao